Il Covid non fa più paura come un anno fa, ma la crescita dei contagi costringe le ASL a sospendere le attività non indispensabili per liberare posti letto. Il Piemonte, grazie ai vaccini, resta ampiamente in zona bianca, come confermato ieri dal report del Ministero. C'è però un aspetto che crea preoccupazioni ed è quello che i ricoveri in ospedale per causa contagi sono aumentati e questo interferisce direttamente con la possibilità di tenere le parti disponibili alla cura di altre malattie. Le rianimazioni non sono sotto pressione, ma i normali posti letto vengono occupati in numero superiore soprattutto da chi non è vaccinato. E nel caso in cui possieda il Green Pass si tratta quasi sempre di persone con molte altre patologie, che però devono stare protette in reparti chiusi dove non si possa moltiplicare il contagio. Per questo dopo la stretta alle visite in quattro ospedali di Genova si è dovuto dare una stretta anche all'attività di alcuni ospedali piemontesi, bloccando gli interventi non urgenti per liberare posti letto. Eventuali deroghe saranno concesse solo per i casi più gravi. Il DIRMEI ha chiesto di salvaguardare pazienti però oncoematologici e tempodipendenti, cioè cardiologici, neurologici e traumatizzati. Non c'è una nota ufficiale, ma sembra che dal DIRMEI sia arrivata un'indicazione in forma verbale durante un incontro con i rappresentanti delle ASL e degli ospedali. E visto che il sistema sanitario pubblico è sotto pressione, la Regione Piemonte adesso è alla ricerca di ulteriori spazi nelle strutture dei privati. La richiesta è diretta alle strutture private convenzionate per mettere a disposizione posti letto per pazienti covid a supporto degli ospedali pubblici.